Fausto, vieni a giocare a calcio con i ragazzi dell'oratorio. Ma ti sembra uno sportivo? Oh, Fausto, Fausto, vieni a giocare a bigliardina all'oratorio. Non vedi che sono occupato? D'ora. Dai, Fausto, vieni a ballare con noi Banzi in oratorio, che ci divertiamo. Ma perché mi hai preso? Fausto, ho una mega proposta per te. Vieni a fare l'animatore dei più piccoli in oratorio. Guarda, oggi non posso, la prossima volta. Oi, Fausto, vieni con noi a giocare a ping pong in oratorio. Dai che ci divertiamo. Non so capace. Fausto, 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 una cosa fighissima da dirti. Allora, se tu vieni con noi in oratorio, facciamo a merenda, c'è tanta di quella roba. Non mi va. Raga, non potete capire il gol che ho fatto ieri a bigliardino. Dal portiere valeva pure doppio. C'è, ragazzo. Allora, il gol avete pure in quanto abbiamo fatto. Sì, ma questa cosa mi darà la gloria per sempre. Beh, perché non abbiamo ancora fatto merenda, ragazzi. È di quella roba. Giusto, raga, merenda. Andiamo, andiamo. Andiamo. Basket, calcio, merenda. Vengo anche io.